Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale io sono Mari ed oggi grazie alle risposte del sondaggio che vi ho lasciato nella community ho scelto il video che avevo proposto fra i due avete scelto il makeup oggi vi propongo questo makeup bellissimo con questa palette stupenda della collezione hohoho di essence full face con essence ho utilizzato alcuni di questi colori meravigliosi vi consiglio di andare a vedere il video di Elisabetta Vitale dove vi fa vedere lo swatch di tutti questi di tutte queste cialdine vi lascio sopra il link in box informazioni e sopra nelle schede informative ma partiamo con il video vi faccio vedere come ho realizzato questo makeup ciao alla prossima ciao a tutti 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 Grazie 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 a tutti